Ciao! Oggi faremo questo video. Ognuno di voi farà una posizione di scioltezza e le compagne cercheranno di copiare l'elemento. Si chiama copia elemento il video. Va bene? Chi parte? Eva! Vieta davanti, piccoline! Bello, Eva! Bravissima! Forza, velocemente una dietro l'altra e proviamo a fare l'elemento. Aspetto un attimo perché come mai si vede così? Allora, Emma non ci riesce. Anica? Non ci riesce. Letizia? Brava! Allettire le punte! Brava! Letizia ci riesce. Poi? Francesca? Quasi? Quasi, Franci? Greta? No? Brava! Emma? Emma ci riesce. Bea? Non ci è riuscita. Claudia? Quasi. Tutte, l'avete fatta tutte? Benissimo! Secondo elemento? Anica? Sceglie di fare l'elemento alla parallela. Vai! E trasloca! Bravissima! Ottimo! Vediamo! Vediamo chi riesce. Aspetta, 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 aspetta. E Emma ci riesce. Vediamo Eva. Devi traslocare. Oh, è andata! Ce l'ha fatta anche Eva. Franci! E ce l'ha fatta anche Franci! Greta? Brava Greta! Brava Greta! Brava Letizia! Bea? Oh, e ce l'ha fatta anche Bea! Emma? Una alla volta! Una alla volta ma ce l'hai fatta anche te. Claudia? Bravissima! Ottimo! Chi fa l'altro elemento? Francesca? Eva? Bello, Franci! Vediamo! Eva? Ce la fa. Bea? brava aspetta un attimo greta vai vai pure greta brava chi va no Emma brava Emma Emma l'altra Emma ok leti va bene Claudia brava dai quasi fatto chi è la prossima bella brava bella e Annika andiamo usiamo la trave in mezzo ok usiamo la benissimo allora parte Letizia bene cambio greta spostatevi così la guardo bene Emma bravissima Anika più sulla gamba dietro più sulla gamba dietro va bene dai quasi Anika bravissima Eva brava Francesca dietro le manine bravissima Emma Emma bravissima Claudia e brava quanti l'hanno fatto l'elemento no no non l'ha staccata quante hanno già fatto l'elemento da copiare una due tre quattro in cinque quattro ok salutiamo e poi nella seconda parte faremo le altre compagne ciao